ciao a domani per scuola devo fare uno strumento musicale vi faccio vedere uno strumento musicale che voglio fare voglio fare la maracas prendiamo due contenitori degli ovecchi kinder c'è un'intra sorpresa capiamo tutti e due questo è stato facile da aprire prendiamo un contenitore prendiamo il riso 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 riempi solo un lato riempi un lato poi fai anche l'altro mettiamo sul cucchiaio così lo dobbiamo fare ah ne fai due così prendiamo lo scotch ti aiuto io tienilo chiuso accidenti tratti in mezzo tienilo chiuso e ci giriamo intorno e posso anche meglio esatto finché non abbiamo bloccato tutto questo qui è un nastro carta quindi si può anche rossi così lo mettiamo anche per sopra così facciamo anche qui sotto no è tutto il cucchiaio dobbiamo mettere lo scotch va bene dopo lo colori sì anche questo è un nastro carta non ho detto di colorare poi lo stesso colore ma non ha importanza tu puoi farlo colorato questo finilo così non importa dopo un po' alla volta che io scendo tu lo sistemi si ah è staccato hai staccato mai arrendersi mai 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 maes maes Allora, come fare l'altra? Ci può dipingere la carta qui. Abbiamo fatto anche la sua malacca. Vi faccio sentire il rumore che fanno il suono. Come si chiama questo? Suono o rumore? Suono. Suono, perché è più dolce. Sì, il rumore, il suono è una cosa piacevole, che è bello da sentire. Il rumore è una cosa spiacevole, che non è bello da sentire. Hai ragione. Lo coloriamo? Sì! Direi di colorarli con gli acquarelli. Di che colore possiamo farli? Verdi, arancioni, viola. Quello per chi manca fai con le penarelli. Al prossimo episodio ecco finite le maracas come suonano? senti? facciamo un po' di festa di rio adesso carnevale di rio e anche si capodanno ciao e ci vediamo stasera con un libretto like, iscrivetevi al canale ciao 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 ciao